Intanto vediamo cosa succede oggi prima di analizzare quello che può accadere in futuro. Ogni qualvolta sul giornale ritorna questa vicenda è evidente che per la mia assistita è come sparge le sale su una ferita aperta, perché il sale sì è necessario, però brucia, brucia tanto. Quindi anche l'enfatizzazione che c'è stata a livello mediatico ovviamente per lei è una prova pesante, dura. Adesso siamo nella sede naturale per quella dell'indienza preliminare. Vediamo cosa accade oggi e poi rifletteremo sul resto. Lei come sta? Le dico come una persona alla quale si mette sale in una ferita, come starebbe?